L'Associazione Moveo di Panza espone al Torrione di Forio. Buonasera, è una mostra fotografica che rappresenta le radici appunto della memoria in un ambito fotografico della memoria della frazione Panza, rappresentando momenti, istanti di vita quotidiana che forse tanti hanno dimenticato. È un modo per ritrovare non solo i luoghi ma i visi delle persone che ci hanno preceduto e sicuramente vale la pena vederla perché è un viaggio nel tempo che fa, oltre sognare, fa anche tornare alla memoria ricordi e racconti dei nostri nonni. Siamo contentissimi che la Moveo ha voluto ripetere questa mostra nel Torrione che per fortuna sta avendo tantissima affluenza con visitatori di tutta l'isola. Questa è la cosa interessante. Il messaggio della foto antica ha tirato visitatori di ogni comune senza essere settoriali proprio perché è un argomento che suscita interesse e curiosità. Si intitola Volti e luoghi del nostro passato, immagini del tempo che fu e la mostra fotografica che è aperta al Torrione di Forio a cura dell'Associazione Moveo. Claudio Iacono, di che si tratta? Beh, è una mostra che intanto noi abbiamo già riproposto come facciamo ogni anno in concomitanza con la festa di San Leonardo che si svolge nel mese di settembre. abbiamo avuto un grande successo di pubblico, è piaciuta molto la mostra, noi siamo molto felici anche perché cerchiamo ogni anno di sviluppare un percorso attraverso le immagini del passato, ogni anno seguendo un tema diverso. Quest'anno abbiamo scelto appunto questo tema che ci ha regalato l'ispirazione per poter preparare questa mostra con tantissime foto, tutte nuove rispetto alle mostre precedenti e in più quest'anno sia a Panza che qui in questa seconda versione foriana al Torrione abbiamo pensato di riproporre le foto dello scorso anno che sono disponibili negli appositi raccoglitori per chi magari le volesse vedere. Intanto qui abbiamo una delle fotografie che ha destato maggiormente la curiosità e l'attenzione dei visitatori perché insomma il soprannome di questo signore è un postore e quindi insomma tutti quanti si sono chiesti come mai si chiamasse così. Eh soprattutto c'è stato uno degli avventori della mostra Marco Amendola che è rimasto davvero folgorato da questa immagine anche perché si chiedeva siccome è degli anni 30 quindi è molto molto antica, diciamo è l'unica foto colorata dell'epoca come mai? Insomma si chiedeva un giallo era nato su Facebook intorno a questa foto beh diciamo che di versioni ce ne sono tante sull'origine di questo soprannome sono tante e varie non vale la pena sicuramente di dirle tutte però diciamo ecco è una foto che ci dà se non altro la sensazione di racchiudere all'interno tutte quelle che sono le scelte che abbiamo voluto fare in questa mostra perché c'è il volto di un personaggio comunque molto noto c'è un paesaggio che pur essendo a panza al momento non c'è più quantomeno non è decifrabile, non è verificabile chissà che magari non sia ecco in un posto che magari tutti conosciamo però noi non lo possiamo sapere certo è che è a panza perché loro sono tutti panzesi sì doc intanto ci vuoi portare a fare un giro delle fotografie più significative della mostra così le facciamo vedere ai nostri telespettatori e li invitiamo ovviamente a venire qui a vederle al vivo perché le fotografie vanno viste dal vivo le fotografie vanno sicuramente viste dal vivo la telecamera non credo che ci aiuti molto però se già proviamo a guardare queste foto vedete che c'è il trasporto dei pali di Castagno con il mulo sembra di guardare questa foto probabilmente se non fosse per il blue jeans potrebbe essere tranquillamente una foto dell'Ottocento mentre invece si sta parlando di un passato che alla fine è piuttosto recente perché stiamo parlando di quelli che possono essere gli anni 50, 60, anche 70 però dà anche il segno di quanto velocemente si sia sviluppata anche l'isola in questi ultimi 50 anni come ad esempio il mulo lo vediamo riproposto qui vediamo la nascita di queste motorette questo praticamente deve essere il nonno della più classica motoretta che anche io che sono piuttosto giovane ho visto da bambino ora ne sono rimaste piuttosto poche però ecco ad esempio c'è questa che mostra il volto di questo signore che si chiama Nicola Polito con questo quadro che c'è alle spalle come c'è scritto anche nella didascalia allegata alla foto è un quadro della congrega dell'Annunziata che si trova nella piazza San Leonardo a Panza e questo quadro veniva portato a casa delle persone malate di coloro che stavano molto male per confortarli ecco per avvicinare in qualche modo anche la presenza religiosa al malato personaggi più classici come Francesco Iacono detto Franchino Pazzarie e la Panza vedete che comunque sono anche immagini abbastanza disimpegnate voglio dire non vogliamo certo affibbiarci l'idea di questo paese bacchettone abbiamo cercato anche di essere più simpatici ad esempio c'è una foto molto significativa per il nostro paese che è quella della banda Aurora che è qui al centro la foto risale al 1980 si può dire che questo sia forse l'eredità più importante che noi pansiesi portiamo avanti dal nostro passato perché la banda musicale ha superato ampiamente i 100 anni di vita è stato festeggiato il centenario anche con un evento e se Vito riesce a salire con quella foto della piazza di Panza questa cappella che c'è sotto con il mulo e il carretto voi vedete che praticamente questo posto al netto del negozio di frutti vendoli che c'è dietro direttamente a quella edicola votiva è rimasto esattamente così com'è magari non c'è più il mulo con il carro con i tini però la piazza è rimasta così un'altra bella foto è questa dove si vede il dono da parte del partito monarchico della sezione di Panza del partito monarchico a questa signora perché aveva chiamato suo figlio con il nome del regalo aveva chiamato Umberto e quindi aveva diritto a ricevere un emolumento per aver portato avanti ecco il nome del re anche queste sono delle testimonianze del nostro passato che sembra molto lontano ma anche qui parliamo del 1949 dice la didascalia quindi sono circa 60 anni fa non c'è bisogno di andare così indietro nel tempo un'altra foto interessante era quella del monumento ai caduti dove una volta il 4 novembre era festa nazionale anche quando non è stata più festa nazionale per un certo periodo è stata comunque una festa molto sentita anche perché le guerre erano vicine ovviamente i morti venivano percepiti in maniera molto più forte rispetto a quello che accade in questo momento e qui ci troviamo per chi fosse più o meno pratico del paese siamo accanto all'edificio delle scuole elementari c'è questo monumento ai caduti questa è la cerimonia avvenuta durante gli anni 70 non c'è qui una data ben precisa però vedete che ci sono sui gradoni del monumento ci sono appoggiate ecco le immagini dei caduti del nostro paese durante il conflitto mondiale in queste altre immagini si può vedere chiaramente la testimonianza di una vendemmia di non troppi anni fa che veniva fatta sempre con il metodo dei palmenti vedete che avveniva la pigiatura in queste vasche da dove poi il vino defluiva in una vasca posta al di sotto e poi da lì veniva portato con i tini nelle botti una procedura molto molto faticosa che adesso è stata abbastanza superata ma è rimasta comunque per molto molto tempo se non erro addirittura è un'usanza che è partita dalla Grecia quella di fare il vino in questo modo e noi ce lo siamo portati ce lo siamo portati dietro davvero per tantissimo tempo